Brutto episodio di maltrattamenti in famiglia Chieti. Marco Schiazza, 31enne di Ortona, saldatore al momento disoccupato, è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver selvaggiamente picchiato lo scorso 31 marzo la compagna Anna Maria Marinelli, 46 anni di Chieti. Schiazza ha accompagnato la convivente al pronto soccorso alcuni giorni dopo. La donna ha subito un delicato intervento chirurgico e attualmente è ricoverata all'ospedale di Chieti. Al momento non è in pericolo di vita. Le indagini sono iniziate grazie all'intuizione degli agenti della volante di Chieti. C'è stato questo ricovero in ospedale il 4 aprile e la donna in un primo momento aveva riferito di essere accidentalmente caduta dalle scale, però aveva delle lesioni che non erano compatibili sicuramente con una caduta dalle scale. Questo motivo ci siamo attivati cercando un attimino di capire cosa fosse realmente successo. Tutto è iniziato lo scorso novembre quando la coppia è andata a vivere insieme. Gli episodi di violenza si sono verificati sin da subito. Il più devastante, l'ultimo, a fine marzo. La donna ha accusato forti dolori addominali. I medici, dopo un primo esame, hanno deciso l'asportazione della milza. Brevissime le indagini, solo quattro giorni, ma renderle complesse la presenza dell'uomo nelle corsie dell'ospedale. Continuava a minacciare la donna? In macchina, al momento dell'arresto, gli è stato trovato un coltello a seramanico con una lama da 15 centimetri. Gli agenti sono riusciti comunque ad avvicinare la vittima che, confortata, ha trovato il coraggio di raccontare la sua triste vicenda. Per starle vicino e proteggerla, gli agenti si sono anche travestiti da pazienti. Schiazza, arrestato prima che potesse compiere qualche ulteriore tragica azione, è stato portato nel carcere di Chieti. Dovrà rispondere per lesioni gravissime, minacce aggravate, maltrattamenti e porto abusivo di coltello. L'uomo non è nuovo alle forze dell'ordine. Si tratta di una persona dall'indole violenta e quindi particolarmente incline a commettere atti di violenza nei confronti, in questo caso, di soggetti deboli, quindi a diversi precedenti, addirittura anche per tentato omicidio, quindi è stata una persona pericolosa e per questo motivo è stata emessa questa ordinanza di custodia cautelare in carcere.